Un attacco rivoluzionato e tante giovani promesse, così lo stiamare si presenta ai nastri di partenza della prossima stagione. Ricominciamo questa annata con una squadra nuova, ancora più giovane, cercheremo di fare del nostro meglio per fare un buon campionato. Il gruppo adesso si sta cementando, piano piano cominciamo a conoscere i ragazzi nuovi. Gli obiettivi sono sempre gli stessi, innanzitutto fare un buon campionato, cercando di stupire il più possibile, cercare di valorizzare i giovani. Sono circa tre anni che il direttore mi vuole portare qua, poi avevo altre esigenze, magari sia a livello economico che logistico. Ho anche delle esigenze a casa e ho deciso di venire qui, però sono carichissimo e sono contentissimo per questa opportunità che mi hanno dato e spero di poterli ripagare nel migliore dei modi, soprattutto a suon di colla. Un nuovo volto dell'Ostia Mare, attaccante, esterno, arrivi dall'Eccellenza, dall'R2 Monte Rotondo, dove hai segnato 21 gol. Esterno, 21 gol, a me sembra un numero da salati, paragone un po' a lui. Magari diciamo non esageriamo, però sono molto contento dell'annata che ho fatto, ho lavorato tanto per tornare nella categoria che volevo, che era la Serie D e sono molto contento che il mio lavoro ha portato i suoi frutti, quindi bene così. Abbiamo impiegato 15 minuti per trovare un accordo e per trovare la convinzione di firmare qui ad Ostia. Da parte di tutte e due le parti c'è stata subito la volontà di ufficializzare il tutto. Sono arrivati qua, ho trovato una squadra, un gruppo molto unito e compatto, sono veramente felice. L'Ostia Mare raccoglie sempre tanto interesse intorno a sé, ai tuoi spalle c'è la tribuna che fra qualche settimana sarà gremita di persone, di diffusi, ti senti di promettere qualcosa a loro? Ma io sono nato qui ad Ostia, quindi ricordo tantissimi anni fa quando ero più piccolo che le tribune erano stracolme, non esagerano, erano proprio stracolme. Quindi io mi auguro di vedere un po' più di gente, un po' più ad al secolo, so che si gioca di domenica in un orario un po' particolare, quindi questo un po' compromette le cose. Dal canto nostro noi promettiamo il grande impegno, la grande professionalità anche se parliamo di direttanti. Con l'aiuto del pubblico e con la qualità dei giocatori a disposizione, l'Ostia Mare si candida ad essere una delle sorprese della prossima Serie D. Da Ostia per Canale 10, Valerio Nasetti.